Oh mio dio, troppo complicato Ma signor DJ Fire, ma signor DJ Fire, ma si fa così, si fa Ecco Si fa così, si fa Ecco Ecco Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Siete sempre con DJ Fire 98, è in compagnia del nostro Kalimur di quartiere ragazzi Anche io Kalimur di quartiere Questa volta facciamo un classico survivor nella mappa non mi ricordo Potete scaricarlo dal workshop, molto bello Non si chiama non mi ricordo, ma non ho una minima idea di come si chiama, questo mi viene in mente Si, questa mappa si chiama non mi ricordo Ok, Splash Mountain, credo, si, ok E niente Journey to Splash Mountain Come avete visto è una mappa molto grande Intanto io sto t-baggando la radio qui Ok, come vedete qui abbiamo Oh mio dio, ok La mappa è molto grande Quindi siamo stati un po' di tempo a decidere dove andare e cosa fare Quindi va bene, sono pronto Dove stare Ok, a tradimento No Ok, ci mettiamo nel bar perché diciamo è abbastanza gestibile Ma guarda lì, i botte non vengono Io vado nel barbecue Avvicinati se no i botte non vengono Non vengono in qua, vengono in casa Mi sono incastrato E mi sono incastrato Un nuovo po' Ecco, ecco Non arrivano Qui c'è una porta, si apre No, non si apre No, purtroppo Eh no Camerieri, dove siete, i camerieri? No, io... Eh, se non sbaglio dovremmo scappare Io vado alle barche Non arrivo Navighiamo Aspetta No, non era un tank Vieni Eh, io ho sprecato la Molotov L'unica Molotov che avevamo per fare quella stupidaggine che abbiamo fatto all'inizio Oddio, arrivano dall'acqua, arrivano dall'acqua Oh mio dio Oh mio dio, è un incubo Io sento il tank ma non lo vedo Ma in acqua possiamo andare, no? È giusto? Bellissimo Yeah Oh, oh, una split Ma se la splitter vomita in acqua Ci becca? No Sì Cioè, è troppo Non ci fa, non... Ok, c'è il tanto, c'è il tanto Il tanto in acqua Lo incendio, lo incendio Non l'ho mai visto È morto È già morto Non gli piace l'acqua Sì Eh, no Ok, allora, vediamo un po' Uh, no, 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 aiuto, c'è un gioco Ok Non l'avevo visto Ma no, gli Hunter e i giochi non si vedono Log E noi siamo... Eh, chi ne ha preso? Ah, ecco E noi siamo così intelligenti che in un parco giochi Andiamo in acqua Oh, c'è un tank che mi carica Mi carica Oh, buono È morto? Sì, è morto Ok Ci conviene uscire dall'acqua Eh sì Il più velocissimamente possibile Non riesco a uscire Ok, siamo uscito Yeah Inquadra l'impresa Lo... Ecco qui Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua C'è un tank, c'è un tank, c'è un tank Eccolo, lo vedo in fondo, in fondo Eccolo, alla distanza Eh, ma il mio cucine non è fatto per le distanze Nesting birds now Watch your beard Spara, spara, spara Oh, scansati Charger Mi ha portato direttamente a casa Mi ha portato il charger Credo che il tank sia morto, se non sbaglio Io cambio fucile Oh, arrivano da dietro, arrivano da dietro Sì, li vedo, li vedo Ce la stiamo cavando però, sto notando, eh Ok E diteci, nei commenti, se volete la campagna di questa... Sì, perché è disponibile anche la campagna, visto che è una mappa molto grande Fateci sapere, se volete la campagna, ve lo faremo il più breve tempo possibile Magari la divideremo, divideremo in due parti, magari Sì, classico metodo, canale, parte nel mio canale, parte nel canale di Kennywood E abbiamo ottenuto il bronzo easy Sì, è stato easy Senza neanche perdere molta vita Cioè, a parte Bill, però Bill è il piede debole, cioè il piede debole Capitan Findus purtroppo si deve... E' la parte debole della squadra, quindi... Oh, arriva in mare, arriva... No, se lei se ne intende solo in mare, quindi... Oh, arriva un tanto e scongo un tanto No, però non ti mettere in mezzo, qua No, non preoccupare Non giardiamo 5 il canale Non ci credo No, 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 ok, mi sta caricando Eh, uti... L'ho sporcato, l'ho sporcato, l'ho sporcato Ok, è morto, qualcuno mi rian... Qualcuno mi rianimi Ci rianimo io Come si rianima? No, no, ti sta rianimando Bill, ecco No, no, mi serve il kit Mi serve un kit medico Eh, ti curo io, ti curo io Sì, sono certo I kit medici sono... I kit medici dovrebbero essere da Indiana Jones Aspetta, ora vado a vedere Oh, sì Ho trovato delle pillole, vabbè, adesso non ne ho bisogno Siamo a 5 minuti e 30 Possiamo arrivare raggendo Vieni, vieni, vieni qui Vieni qui, vieni qui Aspetta che sono... Non sono proprio tanto velo... Oh Ti porto dai kit medici Oddio Tank Dov'è? Ah, ok Dietro di noi Dov'è? Oh, eccolo Oddio Eh, ha inshottato Zoe proprio Smoker Smoker Sì, sì Come c'è arrivato lì non lo so però, ok Ci sono i kit medici? No Fare attenzione che qui è il giorno... Dovremmo andare dietro Aspetta però... Devo andare a prendere le munizioni Ok, ci abbiamo l'argento Ci abbiamo l'argento Aspetta che qui c'è un FAMAS Dieci altri... Aiuto, aiuto Aiuto, scusi Sì, arriva, arriva, arriva Altri tre minuti per loro Tre minuti per loro Tre minuti Sì, tre minuti per loro Forse ce la facciamo Vieni qui, vieni qui Andiamo sul tetto Forse abbiamo una possibilità Ecco un kit Il kit medico è sul tavolo Oh, non ce l'ho Non riesco a prendere Ok, si è baccato Non riesce a prendere neanche tu? No Oh, tank, tank, tank Ma Zoe lo sciottano sempre Ogni volta Dai, il tank, il tank, il tank, il tank Oh, ragazzi, non ci sto cap... Uuuuh Io ho finito le munizioni Due tank, due tank Otto minuti, due minuti Mancano due minuti Eh, sono a terra, io sono morto No Dove sei, dimmi dove sei Eh, sì C'è un altro tank No, non mi rianimare Uccidi prima il tank Perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti Otto minuti e trenta Uccidi il tank subito, subito, subito Dai, Bill 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 Allora, Bill Dove sei rimasto solo? Eh, io sono morto Sono morto Devi continuare senza di me Oddio Questa avventura continuerà senza di me Oh Dai, dai, resisti un altro minuto Nove minuti Nove minuti Per un minuto non arrivavamo allora Cioè, vi rendete co Vabbè ragazzi, allora Diciamo che abbiamo fatto un round davvero lungo Uno dei più lunghi che ho fatto insieme a Calivor finora Perché, comunque Uno dei più bei round che abbiamo mai fatto Sì, perché la mappa era bella Era, essendo più stessa comunque c'era la probabilità C'era un'altra probabilità di arrivare a loro Ma per un minuto comunque non c'eravamo riusciti Comunque Spero vi sia piaciuto questo video Spero vi sia piaciuto questo video Se volete anche la campagna Scrivetelo nei commenti E date un'occhiata anche al canale di Calivor Che metterò in descrizione Un saluto E io vado a fare un bagno Vieni DJ Fire, vieni con me Vieni a farti un bagno Ok, noi andiamo a fare un bagno E ci sentiamo al prossimo episodio E io mi drogo No, non riesco a prenderle video Ti me leggi Ti me leggi Ciao ciao ragazzi Ciao 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 JT